ora però voglio anche dirti che cosa non facciamo non facciamo preventivo online perché preventivo online non serve a niente serve solamente dare un numero ma non risolve dei problemi e delle necessità non abbiamo interessi per un materiale piuttosto che un altro perché lavoriamo dal pvc fino all'acciaio inox e tutto quello che c'è nel mezzo quindi se trova una soluzione che funziona nel tuo caso ti farò la mia proposta se non la trovo non te la farò ma se te la farò la farò con il prodotto che ritengo migliore nel tuo caso specifico quindi non scendiamo a compromessi di nessun tipo se si può fare bene se non si può fare diciamo anche di no non abbiamo i prodotti economici cosiddetti da palazzinari perché chi cerca quel tipo di prodotto non ha bisogno di durata non ha bisogno di garanzie di assistenza di tutto quello che invece noi vediamo non è il nostro mercato